La Grecia è considerata la culla della civiltà europea, in virtù del mito appunto di Europa. La principessa Europa, figlia del re dei Fenici a Genore, era dotata di una bellezza straordinaria. Il suo fascino non lasciò indifferente nemmeno Zeus, padre degli dèi sempre in cerca di avventure amorose, il quale la notò mentre raccoglieva dei fiori non lontana dal mare insieme alle ninfe. Zeus decise allora di confondersi tra il bestiame che pascolava lì vicino, trasformandosi in un toro bianco, placido e mite, col petto robusto e due piccole corna affatto minacciose. Colpita dalle sue forme armoniose e dal suo temperamento, Europa si avvicinò al toro e, presa immediatamente una certa confidenza, iniziò a cingere le sue corna di ghirlande e ad avvicinargli dei fiori alla bocca. La principessa a un certo punto ebbe addirittura l'ardire di salirgli in groppa. Il toro allora, senza perdere altro tempo, colse l'occasione per lanciarsi tra i flutti del mar Mediterraneo, trasportando la fanciulla con sé fino all'isola di Creta. È forse questa l'immagine più significativa del mito d'Europa, tanto che la scena è stata immortalata sul retro della moneta greca da due euro. Dopo l'approdo a Creta, dicevamo, il toro riassunse le sue sembianze originali, quelle di Zeus, ed Europa così se ne innamorò. La coppia generò tre figli, tra i quali Minosse, padre di quella civiltà cretese che è considerata la prima civiltà europea. Infine il nome Europa da quel momento indicò le terre poste a nord-ovest dell'isola di Creta, e dunque a nord del mar Mediterraneo. La Grecia, e più in generale l'intera penisola balcanica, è assieme all'Italia il paese a più alto rischio sismico in Europa. Prima di capire il perché, però, è necessario ricordare alcune nozioni relative alla crosta terrestre. Essa è costituita sia dai continenti emersi, sia dai fondali oceanici, e risulta spezzettata in varie parti, dette placche o zolle, che galleggiano, scivolano, si muovono seppur impercettibilmente sugli strati fluidi e roventi più interni del nostro pianeta. Potremmo dunque paragonare la crosta terrestre a un enorme puzzle, i cui pezzi sono rappresentati da placche mobili alla ricerca dell'incastro perfetto. Come avrete a questo punto già intuito, il terremoto è una rapida e violenta vibrazione della crosta terrestre, dovuta all'enorme energia sprigionata dallo scontro o attrito sotterraneo tra due placche. Ebbene, gran parte della Grecia, specie la parte meridionale e insulare, si estende in corrispondenza di faglie, cioè quelle zone di frattura della crosta che determinano la divisione tra placche e al contempo rappresentano le aree di contatto tra le stesse. Sono tre le grandi placche che interessano il territorio nazionale ellenico. Quella africana, caratterizzata da una protuberanza che risale lungo gli appennini per poi discendere lungo le coste balcaniche, dalla Croazia alla Grecia passando per l'Albania, spinge verso nord. Quella euroasiatica, separata da quella africana dalla cosiddetta faglia gloria, si snoda lungo tutto il Mediterraneo, dallo stretto di Gibilterra alla Turchia, e spinge in senso contrario, verso sud. Quella turco-araba ed l'Egeo, infine, si muove verso ovest e nord-ovest, trovando un punto d'attrito con le altre due, in corrispondenza proprio della Grecia e dei mari Egeo e Ionio. Oltre a un elevato rischio sismico, la Grecia condivide con l'Italia anche la spinosa questione dell'immigrazione. Se il nostro paese, in particolare l'isola di Lampedusa, rappresenta la porta d'accesso all'Europa per coloro che salpano dalle coste del Nord Africa, così anche la Grecia è il primo approdo al nostro continente, per chi attraverso la Turchia, proviene soprattutto dalla Siria e dal Medio Oriente. Grecia e Turchia sono separate da un confine terrestre lungo 120 chilometri, in gran parte coincidente con una zona boscosa e poco abitata, solcata dal fiume Evros. Si stima che a partire dal 2000, più di 1800 migranti possano aver perso la vita su questa intricata rotta. Un'altra via, certamente non più agevole della precedente, è quella dello sbarco sull'isola greca di Lesbo, a meno di 10 chilometri dalle coste turche. Qui si trovano accampate quelle decine di migliaia di profughi che sono riuscite ad aggirare il presidio della guardia costiera ellenica, peraltro spesso protagonista di respingimenti anche violenti.